Ancora si parla, signori miei, della questione di Marco Bellavia, è una questione che ha fatto molto discutere e ci si è trascinati ancora fino ad oggi, perché poi ci sono sempre degli sviluppi, insomma, e qui, attenzione, perché abbiamo Antonino Spinalbese che sappiamo sì essere uno dei più dispiaciuti per l'uscita della sua amica, cioè Ginevra Lamborghini, ma non ha fatto nulla per nascondere una certa cosa. Ha detto, per me è Ginevra che non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, sì, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto. È colpa mia, perché l'ho detta io quella parola, ho detto basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo, quindi se non l'avessi mai detto, beh, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola. È colpa mia se Ginevra è uscita. E questa è stata la considerazione di Antonino. Nella puntata di giovedì 6, Ginevra è nuovamente entrata in casa, ha avuto modo di parlare sia con Antonino che con gli altri vipponi. L'intesa tra i due è sembrata abbastanza evidente e ha detto, hai fatto il bravo, ho visto che la camera era in ordine. Sto bene, almeno mi dico che devo stare bene. Non nego che quel che è successo da lunedì è come il mio incubo, però sono una donna forte e devo esserlo ancora di più. Grazie a te, grazie a voi, ho capito che in questo caso ho trovato qualcuno di veramente importante che in qualche modo mi ha sostenuto, fatto ridere, e questo anche se è durato poco mi ha riempito il cuore. Così ha detto Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese. E poi ancora, lui, mi fa piacere vederti sorridere, l'unica cosa che devi sapere è ciò che sei. Non c'è bisogno che te lo dica, no? Qui dentro hai trovato degli amici che condividerai per tutta la vita, almeno io sono uno di quelli. Non ci siamo mai chiesti niente della nostra vita, è come se ci conoscessimo da sempre. E questa è stata la risposta di Antonino. Allora Alfonso Signorini dallo studio sottolinea che i loro sguardi parlano da soli, nel senso che dicevano le cose con serenità ma soprattutto con sincerità. Ginevra Lamborghini sarebbe fidanzata però, così racconta il conduttore, ma al momento ha mantenuto il più stretto riservo sull'identità del ragazzo. Chissà se esiste davvero, si è chiesto il 58enne che vede i due molto complici a tratti l'uno verso l'altro. All'interno della casa Antonino sente la mancanza della sua amica e quindi, subito dopo la diretta, facendo riferimento alla squalifica della ragazza e alla nomination avuta da Gegia in puntata, si è rivolto in questo modo a Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. Comunque, anche su quello che è successo con Marco, ci sono casi diversi. Ora, non è perché io sono dalla parte di Ginevra e non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un'intenzione più forte, quindi ci sta che uno nomini Gegia. Poi, subito dopo, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez esterna il desiderio di andare e dice Eh, mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. È che io sto qui fino a lungo, ancora. Guardate che sono sincero, eh. Io non avevo problemi fino ad ora, perché io avevo trovato in Ginevra il mio habitat. Stavo da Dio insieme a lei e le giornate passavano anche rapidamente. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla toglierebbe a voi, ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro. Eh, è un bel colpo ragazzi, è un bel colpo. E questa è stata la sua dichiarazione che ci fa capire il suo stato emotivo. Vedremo cosa succederà. Per ora, ragazzi, mi fermo qui. Vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci sentiremo alla prossima notizia utile. Sempre qui, sempre Pausa Caffè, sempre in compagnia di Max.